Delta mi ha fatto riflettere sul fatto che nel nostro paese è pieno zeppo di realtà che restano ai margini, inascoltate, che possono poi generare malcontento. Credi che le storie di Elia e di Osso nascano proprio in quel voto di comunicazione e di attenzione da parte di chi in realtà se ne dovrebbe prendere cura? Delta è un film di genere, un western contemporaneo, è un film in cui lo stato è qualcosa di lontano, è un racconto di una frontiera, di uno spazio libero, uno spazio in cui i due personaggi sono chiamati a un viaggio, che è un viaggio fisico ma anche un viaggio di scoperta di loro stessi. E in questo viaggio rispondono un po' a delle loro domande esistenziali, appunto, cioè su dove stanno, qual è la loro casa, quali sono i loro amori, cioè tutte e due combattono per due comunità e nonostante questo conflitto che piano piano monta sul fiume cercano di sottrarsi a questa sfida. Purtroppo credo che in Italia, in tante province, c'è questa percezione dello stato come qualcosa di lontano e questo sentirsi ai margini, il non essere raccontati, porta piano piano a tirare fuori degli istinti più scuri. Alla fine credo che il Delta sia il viaggio di questi due uomini così soli, così fragili, che cercano di trovare un modo per affermarsi. Uno dei momenti che sento sempre più emozionanti del film è quando si specchiano l'uno nell'altro, lungo il fiume, e si confondono i volti l'uno dell'altro, è come se qualcosa si ricomponesse dentro di loro. Ho trovato molto interessante l'uso che hai fatto delle scelte musicali, non solo della colonna sonora. Volevo sapere qualcosa appunto su come nasce il mondo sonoro di questo film, perché si va da Andrea Laszlo De Simone a Loredana Bertè, poi ci sono delle sfumature elettroniche della colonna sonora e altri elementi, anche se non sbaglio, di canzoni popolari. Volevo sapere un pochino come l'avevi strutturata. Ma Delta è un film che cerca di raccontare questo conflitto che abbiamo tutti tra il nostro passato e il presente. La storia di Osso e di Elia sono storie di persone che sono molto dentro quel territorio, e quindi anche attraverso il materiale di repertorio ho cercato di ridare questo peso del passato, che quasi travolge Osso. E dentro questo impianto visivo l'uso della colonna sonora è stato anche quello di sì, creare una drammaturgia della tensione, perché poi è un film adrenalinico, un film di caccia all'uomo, quindi c'era bisogno di un impianto sonoro che abbiamo fatto con Teo Teardo e Mirko Perri al suono, che desse questo elemento di genere più adrenalinico, ma ha bisogno anche di tenerezza, perché poi è il racconto di due uomini che cercano di essere amati. E quindi ci sono dei momenti di canzoni, se penso a una Bussò, che è un po' la canzone del film, è una canzone di cui mi sono innamorato perché era un po' quello che succede nel film, cioè l'oscurità che cerca di trovare un proprio posto, è la ricerca di una casa, di qualcosa di più scuro. La Luna è la canzone che lega Luigi Locascio alla sorella, ed è una canzone che tornerà poi nel film come un po' un canto di sirena, come qualcosa che lo chiama ad agire. E parlando proprio di personaggi femminili, io credo che siano molto importanti all'interno della narrazione Anna e Nani, perché a un certo punto ho avuto l'impressione che siano loro anche involontariamente a dare un senso ai destini di questi due uomini, non so se sei d'accordo. Ma sì, Delta dall'inizio pensavamo fosse un film così, insomma un film western impregnato su questi due attori, sin dall'inizio pensavo ad Alessandro, poi è arrivato anche Luigi, abbiamo creato proprio questo impianto maschile, ma quello che muove poi dopo l'amore di questi due uomini, l'amore familiare, l'amore come ricerca di un posto in cui vivere, per quanto riguarda Elia, sono queste due donne. E mentre Nani, interpretata da Greta Esposito, è proprio tutto ciò per cui vale la pena però sovivere, perché è la sorella da proteggere, come si protegge il fiume, così si protegge quella sorella. Anna invece è il mio punto di vista sulla storia, è qualcosa che si muove tra queste due comunità, e così lei è incuriosita dai luoghi che scopre, così io mi sono sentito muovere all'interno del fiume mentre scrivevo il film. Quindi scegliere un personaggio femminile a cui dare il punto di vista sulla storia mi sembrava una bella idea. Grazie mille per il tuo tempo. Prego. Grazie.